Zero case, zero alberghi sui monti, voglio pace nei piccoli Soldi veri a chi studia davvero e agli spiriti liberi Comprerò treni senza stazioni per quelli più timidi e tutta quanta l'elettricità ai meno sucevoli Mi userò, ballerò, mi renderò il gioco difficile Ma già lo fanno, allora sposto in Africa l'acqua potabile Invaderò l'impero cantando, lo farò ogni domenica Le regalarò con tutto il suo oro agli indiani da America Guarda avanti Roberto cos'è questa novità della sigla? Allora, volevo fare una roba diversa, un po' più, come dire, vigorosa Per non salire sempre e direi bentornati, il nuovo appuntamento con Mondocasto, la rivista Quindi questa volta non lo diciamo, allora partiamo con il primo articolo Primo articolo, copertina, copertina del sommario Ok, quindi allora, primo articolo che cosa abbiamo subito? Allora, in cima abbiamo Eternal City che in ordine ecrologico è stato l'evento, l'ultimo evento appena svolto È finito ieri, quindi è un evento che è giunto alla quarta edizione Roma, l'ho detto Roma, sul territorio di Roma È un evento che si sta ingrandendo anno dopo anno Ormai è diventato un classico Tra l'altro è un evento internazionale Perché per esempio l'anno scorso c'era Budulery Quest'anno chi c'è Roberto? Alex Gambino Alex Gambino che è un noto customizer americano È un amico anche di Neurotv Un customizer americano che naturalmente lavora sulle lamiere delle auto Tra l'altro era stato a Verona qualche anno fa con i Runners E anche lì appunto doveva tagliare un tetto Questa volta qui a Roma Quindi qui a Roma abbiamo come inviata speciale Eleonora Chiezi La nostra Eleonora Quello di Ovata da Fabrizio Cappucci di Dusty Wheel Racer Che diciamo fa l'operatore tecnico Sì, è comunque il nostro editor Sì, è comunque l'editor Sì, ci aveva fatto le dirette dal Bike Sheet di Londra quest'anno Ah certo, me lo ricordo Molto bravo, molto in gamba Per cui seguiamo la scaletta Prevede che ci sia appunto Gambino Ci sarà il contest di LoRide C'è un altro che presiede l'evento Naturalmente L'ufficiale Esatto, poi un sacco di espositori C'è Lorenzo 81 che presenta il suo nuovo libro Insomma, piatto rischio Ci sono anche degli amici di Milano che sono andati giù Tipo, vabbè, non faccio no, li vedete Li vediamo Ok, allora agevoliamo il servizio Sì, ci sarebbe il Piemonte Eh vabbè, allora dopo manderemo la linea al Piemonte Perché i ragazzi scalpitano E quindi dobbiamo mandare la linea A La Strega e Smoking Max Va bene? No, no perché ci siamo persi in Piemonte Figa, ce l'ho detto prima Buongiorno a tutti dalla Capitale Benvenuti all'Eternal City Custom Show di Roma Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno Un weekend all'insegna di moto Macchine americane Spettacoli Artisti internazionali Ne intervisteremo anche qualcuno Ne vedrete delle belle Andiamo a farci un giro Ed eccoci qua Nello stand dei Rambles Un famoso club di auto americane E sono in compagnia di Gambino Il nostro ospite internazionale Direttamente dalla California Hi Alex Hi What are you doing here? Is it your first time in Italy? No, I've been in Italy before I came to an international motorcycle show Car show in Verona In 2012 And then I chopped the top on a car I remember Lui ha tagliato il tetto in diretta Di una macchina americana Ci ha fatto vedere Un'esperienza fantastica So, do you like Italy? Italian bikes and cars Italian builders What do you think about Italian culture? I love Italy I want to come here to live Really? Come! I come to California Lui lavora in California Ora gli chiediamo i suoi prossimi progetti And what about your next project? You want to build something for Pomona, Autorama You have something special in the garage Yeah, right now we're doing a 1954 Cadillac That we just chopped the top And we did a modified the taillights It's already all shaved nose and deck And we're going to paint it black with flames Green Flames Metal flake flames But a kind of light Not really that it stands out That much Tetto cioppato E fiamme verdi Fantastico I really like your style Thank you You want to talk about something special? I don't know, I just... I love cars, I love what's going on here in Italy I'd actually like to have a Gambino Customs in Italy Ah, really? Yes It's amazing Yes We will see Thank you so much Thank you Nice to meet you Thank you And now we're in the company of Lori 666 That's the sixth book And he's been a reference for years For many motocicletists Lori, what's your goal, the sense of your books? I don't have any goal, but the sense of my books Is to know our culture biker To the kids who are closer to our world And also to the veterans And what I'm interested in the most Is to leave something In the description of our world Visto che abbiamo tanti libri americani, stranieri, ok, di italiano non c'era niente Almeno spero rimanga qualcosa anche di italiano nella storia di questo mondo biker Certo La nostra cultura, la nostra storia Tante foto, tanti viaggi, tante avventure Grazie Grazie a voi Ed eccomi qua in compagnia di Danilo di Loride Loride ormai è una rivista che da anni è diventata un punto di riferimento per il panorama custom È presenza fissa a tutti i bike show, a tutti i raduni e gli eventi Di bike show si parla Danilo, qua all'Eternal City com'è la situazione oggi? Allora oggi è il primo giorno perciò le moto stanno iniziando ad arrivare a livello di iscrizione Abbiamo attualmente circa una cinquantina già di mezzi iscritti nelle varie tipologie In quanto non parliamo di un solo tipologia ma abbiamo lo stile chopper, abbiamo il bagger, abbiamo le cafferenze, abbiamo le scrambler E di questi stili adesso attualmente ci troviamo nello stand di Marinelli dove è uno dei fautori di quello che è lo stile chopper Cioè lui lavora molto su sposter, perciò partendo da telai sposter modificati a livello rigido Oltretutto lui stesso costruisce forcelle e su alcuni modelli costruisce addirittura il telaio Perciò le tipologie sono tante, attualmente come dico stile chopper è lo stile in cui ci troviamo Che ci piace a noi, vero? Perfetto Non solo chopper e bagger ma parlando di nuovi stili mi hai detto del club style, di che cosa si parla Danilo? Allora qui siamo da Custom Planet, un preparatore di Roma e siamo nel suo stand dove ha due esempi di club style E volevo farti vedere proprio questa, di una moto, questa qui che ho qua la mia Ma è già un po' occupata Allora, si può scendere che vorrei fare di più passione No, però non ti siedi tu, se per me ti fa, fai il cavaliere, mi siedo io Purtroppo nella moto, la devi spiegare Deve essere sempre occupata, ho capito Allora qui questo, come dicevamo appunto, il discorso club style è già noto E' nato, diciamo negli Stati Uniti col famoso film Che è che di noi non l'ha visto, abbiamo tutti appassionato Ovviamente Si sta arrivando anche in Italia Perciò con Francesco e Cassa Amplia ne ha presentate due Quali sono le peculiarità? Le peculiarità della moto ovviamente In questo caso è stata montata una carena di derivazione delle vecchie FXRT Perciò moto anni 90 Con una sorta di paragambe In questo caso è totalmente in carbonio Su questa base è una base FXR Perciò una moto comunque anni 90 Mentre questa tipologia o comunque la tipo di carena e tutto Possono essere adattate anche ai nuovi Dyna o ai nuovi software Oltretutto un'altra evoluzione di quello che è questo stile E' quello che è l'evoluzione proprio sulle moto, sulle touring Perciò questo genicapuolone qua viene anche montato Su quello che possono essere street glide o road glide Che viene appunto smontato nella sua parte originale Per essere montato a questa cosa Perciò Moto da viaggio, moto comode, colori moderni Quindi un bel avvinamento Perciò siamo passati da uno stile estremo Da chopper rigide così A un moto, un'altra guida, un'altra tipologia Però andiamo a vederne anche delle ali Grazie Via Danilo a sto giro ti ho lasciato la postazione di comando Grazie così mi riposo anch'io un po' Allora Eleonora come ti dicevo prima Che eravamo nello stand di Custom Planet Qui invece siamo da Passion Garage Da Valentino Da Valentino Perciò parliamo sempre di club style Ma in questo caso non parliamo di Dyna Non parliamo di FXR Ma parliamo di tutto quello che è lo stile Però su allestimento touring Esatto In questo caso la tipologia è sempre uguale Ma con il resto della moto totalmente diverso Da un allestimento totalmente diverso E adesso concludendo il nostro giro degli stili Siamo qua da Vallese Siamo passati dalla touring di Valentino A una touring In questo caso direi allargata Allargata Nonché allungata Qua parliamo sempre di touring Il Quest, la classe e la Bagger La Bagger Per cosa sono Basi appunto come diciamo Moto touring Che possono essere road king Street glide Road glide Però quello che enfatizza realmente Lo stile Sono le ruote davanti Le ruote davanti Generalmente si passa da un 21 Qua arriviamo addirittura A un 32 pollici Perciò veramente estrema La moto Tenete conto Che parliamo di almeno Un metro in più di lunghezza Rispetto a una qualsiasi touring Oltre per non parlare Di tutto quello che ci ha attaccato Perciò qua andiamo Su quello che è Il SUV Delle moto Wow Buongiorno gente Grazie per la linea studio Ciao Roby Ciao Docs A sto giro sono da solo Perché la strega È malata L'influenza Automaticamente Faccio da solo Beh sono C'ho sto magnifico V8 Dietro Un Mopa 318 Che verrà poi messo In sto road Ma in futuro Vederebbe qualcosa Passiamo A Spiegazioni No Avete già visto Che ti èvo Il Tenna City Bellissimo evento Magnifico Bella gente Belle interviste Ma soprattutto La chiesa Ha fatto un bel lavoro Come al solito E adesso passiamo Dal nostro Del Tenna City Al nostro amico Mario Orso Ferreiro Che Ricetta Montagna Cucina Moto Sempre Novità Novità Poi Lo presento con gli attrezzi Ok Vai Orso Facci vedere La chiesa La chiesa La chiesa La chiesa La chiesa Freedom of birth Is rooted me From the first Leaving the worst Curse is muted To my feeling of worth I'm being reimbursed For putting trees In the earth So I'm grateful Cause it's hateful When you're needing the word The seasons reverse And the spring bees And the birds Got a reason to sing Bringing their seeds Into birth And sprouts Pleasing to nurse So I'm surged Like a fountain Begin to burst Out the dirt Up in the mountain I'm counting The amount And the worth Of all my pounding Running around I work the ground My words resounding Versus abound But the sound Carries downwind Grounded It carries round The area I'm found in Weight packing Straight pounds around You break it back And I make it happen I race down mounds With paper stacking Paper's black And late nights Creating's the best I'm breaking checks Making connects Waking to sex My aching breasts Never taking less And they can invest And I ain't paid to rest Is any day gonna test I'm hating the stress But I'm loving the freedom I'm shaking the pesticides With flugs when I need them I'm racing the wrath Numbers above And I beat them I'm making a mess I got mud up to my knees And I'm shoving the trees And where I dug it And squeeze them And I'm ducking Those seums And other bugs And I'm bleeding But under my breathing This is what I'm repeating I chant this To replenish Like a sandwich When you famished Under bandages My hand is Badly damaged But I manage By the hand A grip to brandish My shovel As I clam this Great expanse For Spanish Where the planet It has been printed Trees get slammed Into the slanted Land with frantic speed I dance with And in hand Sends up romantic And I can't get disenchanted High 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 Lose with joy High 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 With the time I'm dragging my feet To get speed I shift gears I fiercely lift my knees And my fatigue disappears My sweat drips swiftly My lips bleed And get smeared Which I lick quickly Cause it's the sea mix With tears Clocks tick six years As I walk between trees And the slashes deep With distracting green leaves My dreams bleed And I seem to be Fast asleep I'm trapped in a deep trance But I plant math to sleep I stand half deceased At the end of my last spree When my hand slaps The tree in the sand That's just sweet And actually it's past belief The feats I've had to pull Wrap the knees Rags of wool Tree bags full I'm like a black sheep That's track meat Speed compatible To pass me I have to be released By a catapult And every word that I speak Is autobiographical So follow my path It's all flagged With red tape And I shed weight With each microsite I impregnate My shredded legs Keep me upright To levitate Up the rocks Every day But the rocks never break I'm back to mess with space Do whatever it takes Some nights I lie in bed awake And shiver and shake But I never let a late night Get in the way Cause every second I waste Is like instead of my pain So when I've got to separate My head and escape From all the effort it takes I just rap to meditate I chant this To replenish Like a sandwich When you're famished Under bandages My hand is Badly damaged But I manage By the handle Rip to brandish My shovel As I plan this Great expanse For Spanish Where the planet Has been branded Trees get slammed Into the slanted Land with frantic Speed I dance with Hand in hand Sense of romantic And I can't get disenchanted You plant a tree To jump up And struggle against rock We plant a tree We jump up And struggle against rock beyond life And struggle against rock in officina passi da me e cucine qualcosa qua anzi se vuoi io la griglia ce l'ho anche più di così a parte gli scherzi passiamo dalla micorso al sima il sima conclusione gli ultimi pezzi sempre veramente epico C10 Chevrolet pick them up truck walker I've been tracing how about that and of course if you're in the off road truck race in Baja style and all that then you know this walker evans especially here in Las Vegas look at that how cool, want to go to backpack or all? no I bet that I used to be ha 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 how cool you may travel to trailhead look at that that's pretty cool looking like you put a snowplow on it yeah hey it is Friday morning last day of SEMA we're over here in the alleyway as you see these are all the Ulta Optima ultimate streetcar machines we'll be going to Las Vegas Motor Speedway this weekend we'll be cruising the boulevard here sometime today and right now they're all dialed in look at that how cool is this Metro yeah huh that'd be a cool dano van check it out deck it in make it road worthy yeah ha ha DOLOA Visto SEMA? ok adesso io vi lascio vi abbandono rilancio lì nello studio e niente ci vediamo la prossima volta con la strega Smokey Man vi saluta e io torno al mio lavoro vado a saldare ciao a tutti quindi mancava aspetto eh insomma eh come promesso settimana scorsa il SEMA fisicamente non ci stava tutto abbiamo dovuto fare delle fette di tempi e abbiamo fatto questo appendice questo implemento una passeggiata al SEMA guarda io ce lo metterei in ogni puntata si ci sarebbe che mettere come avrò fatto dunque rimaniamo in tema internazionale dal SEMA passiamo all'Australia ah quindi abbiamo servizio di Nes Nesle Mai il nostro reporter di punta per l'Australia ci porta a a Bright avevamo annunciato la scorsa settimana che tanto si ho capito bene è vicino a dove è nato lui si è un'oretta di strada dove è nato lui e possiamo vedere questo raduno annuale in questo campo questa situazione molto scala esattamente si chiama offroad car show esatto però non è solo di offroad è car show certo è un car show vabbè naturalmente ci sono le classiche americane quindi Mustang, Camaro c'è ma per i più attenti lo diciamo adesso o dopo? no no diciamolo adesso ci spieghiamo c'è una Holden Torana che è una macchina praticamente esclusiva dell'Australia costruita lì su Vicenza GM è indigena è indigena è quasi aborigine anche perché il nome il nome deriva da una parola aborigine che vuol dire volare volare è costruita in sei cilindri cilindri classico e qui noi vedremo un esemplare tra l'altro abbastanza bombato con uno small block che è in alluminio dopo il carburatore insomma customizzato pesante come è giusto che sia vabbè non svegliamo altro oh tra l'altro l'ha visto il piumino eh eh sì come già fa freschino eh grazie a venire a Natale in Australia con il bagno con il cappellino in spiaggia se lo vedi oggi siamo a novembre dico vabbè quando cambia è vero agevoliamo? prego agevoliamo ати mago bello buongiorno prestigio buongiorno peroliamo il motore tra i unete in australia un po' sedia un bel una varietà un'altra parte, la montagna in the back e questo è bright che è circa 3 ore nord-estate di Melbourne e questo è un'annuale show e c'è un'annuale di varietà di veicoli e è circa 8 o'clock e siamo qui qui inizia con la bella di Dorofi e la bella Eleonora e sono un'annuale e i'll show you un video di un'annuale di veicoli e enjoy e welcome to Australia this is what we've got to offer so come and enjoy hopefully one day nice Camaro here big block chevy alloy your heads just videoing your beautiful chevrolet thank you live through europe oh wow worldwide as well we're in euro tv oh ok yeah ok let's move to the next aisle we've got a Tarana holden GM product here in Australia very popular hatchback small block twin carburetters alloy heads nice car very popular very popular very popular here in Australia how's this beauty nice El Camino and that's slow man and that's where we're going it's ready I'll get it there sorry everyone trial push it in it's so cool and it's divine so never guys say all the time how beautiful huh qui abbiamo Ronny, Dorofy's husband. Hi Ronny, say hello to the viewers of Neuro TV. How are you today? Hello everyone, Italy, France, Walter, America. Got the American flag on there. She's a bit cool this morning, Ronny. It is. But she's looking beautiful, as always. I'm sweating, the shirt's off. Yeah? Have you been gone in 60 seconds yet? Little bit today. Little bit, buddy. 427, small block, Windsor. Nex è un gancio di Manuela e la cosa che a me fa molto piacere è che si abbia tirato fiducia sin dall'inizio in questo progetto di Neuro TV. Roberto, io ti dico che vedere questo signore tutto bello preciso, con i suoi baffetti, che dall'altra parte del mondo, ragazzi in Australia, ma che c'è mai stata in Australia, ha domanda cosa stai facendo, lui risponde, sto registrando per Neuro TV e la cosa che sottolineano tutti è che è una roba italiana, c'è un prodotto italiano. E lo dice con orgoglio questa cosa, insomma, a me scalda il cuore, ti dico. Sì, io mi ricordo quando siamo partiti con questo programma, inteso proprio come progetto, dalla nostra paginetta Facebook, eravamo forse di 100 all'inizio, per un po' siamo stati 100, ed era, l'obiettivo sarebbe stato quello di andare nel mondo e presentarsi come italiani, sia noi per loro, ma loro anche per noi, perché c'erano delle lacune pazzesche, come siamo apporti gli anni girando, di tante cose che qua non arrivavano in nessun mondo. E con Neuro TV è nata questa possibilità, e continua, già al poter vedere una Olden customizzata, ecco, questa è una cosa che magari più non sanno, però esistono queste situazioni. Va bene Roberto, siamo arrivati in fondo alla puntata. Sì, allora, come ogni volta, spazio e tempo, noi inseriamo un video musicale, in questo caso di Spaghetti Jensen, che sono della casa litigrafica di Boncaro, con le di Paolo Pizzi. Quindi mi devo rimettere gli stivali? No, in questo caso ti puoi sdraiare, sono una bella sdraiata, perché hanno fatto una roba molto estivo, calypso, reggeggiante, ma comunque è una roba un po' particolare, mi è piaciuta perché a me piace il mare, piace l'estate, e poi il titolo è evocativo, è When the Summer Goes Home, per cui ci sta. Non ce la dimentichiamo questa estate. Ok. Allora, non ci resta altro che rinnovare l'invito per i nostri amici a seguirci sulle pagine social, quindi Facebook, YouTube e tutti gli approfondimenti che noi puntualmente pubblichiamo. Ma non ci resta anche pure i nostri editor. Durante la settimana noi comunque pubblichiamo materiale, qui naturalmente ci sono le pillole, ma Neurotv produce continuamente contenuti. Se andate sulla pagina Facebook, potete anche mettere like, non ci attendiamo. Esatto. E naturalmente condividete con gli amici perché ricordatevi che dove c'è Custom c'è Neurotv. Neurotv, chi può darti di più. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. In mexico. Far about walking traffic jam, so io and we then Please don't wake me up It's too early yet Hey, don't call me for the rest of the morning When the summer goes on Yeah, yeah My fingers play this song Yeah, yeah When the summer goes on And this song that I sing My dream in Mexico Sounds good or sounds bad It's the summer, I'm so glad When the summer goes on Yeah, yeah My fingers play this song Yeah, yeah When the summer goes on Yeah, yeah, yeah Don't let me never know Yeah, yeah, yeah Yeah, when the summer goes on Yeah, yeah, yeah Hmm, hmm Grazie a tutti.